Ciao a tutti e bentornati nel canale, oggi Cerle, il buon Federico ha già fatto un'entrata ed sta già tornando dentro, prove di setup, prove di setup, ma finalmente la notizia è che finalmente Giacomo torna in moto, ma fa ancora video questo qua, si, si, dopo un mese su una pista del genere, anche tu hai già fatto un'entrata, com'è sta pista, cosa ne pensi? E' bella, però bisogna un attimo capirsi, e ritorno in moto dopo un mese? Eh, quello bisogna capirsi, vediamo anche attenzione grafiche nuove, sul Kawasaki, Kawasaki graficato, ti piacciono queste grafiche? Non sono male, non sono male, e cosa ne pensi degli accessori della mia moto? Super accessori, posso non rispondere? Con noi, anche Marco, ciao Manuel, ciao Nicola, tutto bene? Prima volta qua anche per voi? Prima volta sì, se portiamo a casa, io sì, e questa è una bella giornata Adesso tocca anche a me finalmente entrare, quindi vi ricordo come al solito, iscrivetevi al canale, che dai siamo quasi in mille, quindi diamoci sotto, mettete mi piace il video e attivate la campanellina, e noi, dopo la sigla, dentro di nuovo, no? Dentro di nuovo исторisickugi ici, tutto molto più, no? Una maia echoca stessa di... ...in caro in quarti... ...in caro in quarti, quindi ov幹ito... ... potatoesc satisfying... ahan ... ... Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, ma lei è un cialtrone. Quante ore sei che gambochi? Quasi 70. Contro? Sette minuti. Tre, quattro, cinque, boh, ore. Sai un cialtrone? Spacca lela, spacca lela in testa quella cosa. Vai, giro di opinioni qua per chi è la prima volta, come è la pista? È molto bella la pista. Io mi trovo male ma mi rendo conto che è un problema mio. Perchè vai a spazio invece di andare a spazio? Perché vai a spazio invece di andare a correre in moto? Perché vai a spazio invece di andare a correre in moto? Perché vai a spazio invece di andare a correre in moto? Ho altre cosa da fare e la moto viene dopo. Comunque mi sto divertendo anche se potrei dare di più. Non mi sento nelle condizioni. Peccato, è un peccato perché è una gran bella pista. Torneremo quando sarò al top delle mie performance. Opinioni, pista? Beh, pare è più difficile da fuori comunque. Bella pista, difficile però bella. Prima volta bella. Basta, punto. Prima volta bella, punto. Due entrate fatte, ci stiamo un po' adattando alle condizioni di oggi. Adesso pausetta, mangiamo un po' e dopo rientriamo dentro. Speriamo non piove. Federico dice che alle due piove secondo il suo meteo che è diverso dai nostri. Sa perché. Vedremo, vedremo. Speriamo. 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 Giornata finita qua. Grazie a Marco che è venuto a farmi i video un po' da fuori. Grazie a Moki, come al solito. Mi pareva andare sempre più forte da dentro. No, oggi sì. Oggi sì. Oggi ho incastrato, guarda, un viso. Sì. Ho un viso incastrato. Oggi Moki andava bene. Andava veramente bene. No, beh, se chiedi a Federico non ho mai. Oggi com'è andato? Vai, dillo. Oggi com'è andato? Vedi come è il mio viso qua. Ho sentito una goccia. Piove c***o. Piove! Allora questa pista promossa per voi o no? Sì, sì. Promossa. 100%. Questo è il triplo della pioppa. Oggi è improponibile. Però... Però non lo mettiamo lì che bisogna farlo. La prossima volta senza la buca. Giusto, bombe? La prossima volta lo chiudiamo, lo chiudiamo. Super Giacomo. Sfinito. Lo stiamo aspettando tutti lui perché lui ha dovuto fare test e robe. Non so. Non so. Cos'è maniera? Non è possibile che io ogni volta a fine giornata trovo una sintonia. Sì beh, se non corri da un mese. Comunque qua nessuno dei due ha voluto montare le GoPro. E Giacomo è anche andato per terra, ha rotto un po' di mani e qua nessuno sa niente. Non ci sono video nessuno niente. È caduta da ferma la moto. È caduta da ferma. Allora, hai le prove che è caduta da ferma? Spero io sopra. Che figa. No, 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 no. Io ti dico che se avevi la GoPro, avevi le prove. Senza GoPro non ci sono prove. Cosa? Nessuno ha voluto montare la GoPro. Già come è andato per terra ha rotto un panamani. Lui dice che è caduta da ferma, però qua se non aveva la GoPro non ha le prove. Non può... Anche bombe stanno per cadere. Eh, ma qua nessuno monta l'Ego Pro. Tutti sfaticati. La prossima volta la facciamo montare anche il pilota con 125. Così si sente un po' di due tempi nei video. Così detto Jolly Man. Comincia a piovere quindi direi che è ora di partire, no? È punto giù delle discese oggi. Però ce l'ha fatta, però ce l'ha fatta. Sì sì sì. Ma il problema è la discesa adesso, quando viene giù la pioggia. Ah ok. Speriamo, speriamo. ABS? Sì, 3. Io vi ricordo come al solito, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace al video e attivate la campanellina. E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, possibilmente senza pioggia.